In centinaia per l'ultimo saluto a Siam Laraici, la podista marocchina morta nel casertano a Ferragosto dopo essere stata travolta sui binari da un treno. Familiari, amici e colleghi maratoneti si sono radunati nella moschea di Casapulla, la cittadina in cui la trentenne viveva, dove si è svolto il rito islamico. Lacrime e preghiere hanno accompagnato l'uscita del feretro, ma è stato soprattutto un momento dedicato alla memoria, al ricordo di una ragazza solare d'altruista che correva unicamente per coronare il suo sogno, tornare nella sua amata Casablanca, in Marocco, per aiutare la madre e le sorelle in difficoltà economiche. Siam lavorava per la famiglia. Quindi correva il ricavato delle corse? Le corse mandava la mamma, anzi noi qualche volta l'aiutavamo. Stavamo in aprile a fare la mezza maratona e lei durante il riscaldamento si fece male, andò a mettersi una corda delle tende e si fece male. Io entrai nella tenda e gli dissi guarda tu non devi correre, stai male, ti fai male. E lui mi disse no Massimo io devo correre. Guarda che tu ti fai male. Alla fine lei dovette fare la gara perché c'era un bonus per lei. E questo bonus lei faceva le gare per la famiglia, per l'amore. La cerimonia ha rappresentato inoltre l'occasione per ufficializzare le somme raccolte, quasi 6.000 euro, grazie alla maratona di solidarietà promossa dalla società podistica Il Laghetto, quella per la quale da qualche anno la giovane Siam gareggiava. È nata spontanea questa solidarietà e si è allargata a Maciatonio. Tutto quello che noi abbiamo raccolto, d'accordo con altri atleti magrebini, marrochini, li manderemo tutti nelle mani della mamma. Abbiamo cercato nel nostro piccolo, tutti quanti, da comuni cittadini, da comunità, di dare una mano alla famiglia di Siam.